Marta Callegaro viveva a Mira e non aveva mai sofferto di patologie particolari. Espirata a 62 anni, all'alba del 30 dicembre all'ospedale di Dolo. Il marito ha presentato un esposto ai carabinieri perché si accertino le cause del decesso e si verifichino eventuali responsabilità dei sanitari che l'hanno avuta in cura. Secondo quanto riferito dallo studio Treachi, ha preso il caso in carico, il 29 dicembre Marta ha iniziato a manifestare sintomi che facevano pensare ad influenza, con tosse e vomito. Nel pomeriggio il medico di famiglia, non rilevando problematiche particolari e a parte parametri pressori molto bassi, le ha consigliato di assumere acqua e liquirizia per tirarsi su. Un quarto d'ora dopo la visita del medico, Marta ha perso conoscenza per un paio di minuti. Alle 17 è stata ricoverata in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale di Dolo in codice arancio. Alle 22.30 un dottore ha detto al marito che Marta risultava disidratata e che dalle analisi del sangue sembrava esserci una gastroenterite in corso per cui si stava predisponendo un piano terapeutico. Alle 4.50 del mattino il marito è stato avvisato al telefono che la moglie aveva avuto un arresto cardiaco, che era stata intubata, che la situazione era grave e che doveva recarsi d'urgenza in ospedale. Mezz'ora dopo, all'arrivo dell'uomo e di suo figlio, i sanitari hanno comunicato il decesso della donna, inutili tentativi di rianimazione durati più di un'ora. Nella denuncia a querela, i carabinieri di Mira, sporta dal marito, si chiede all'autorità giudiziaria di disporre l'esame autoptico sulla salma per chiarire la causa di morte e appurare se le cure siano state adeguate.